amici di acustica online buongiorno oggi vi presentiamo uno strumento del custom shop epiphone una riedizione voluta per il cinquantesimo anniversario di uno strumento storico la sg questo strumento si caratterizza per il mogano che va a comporre il corpo per il manico sempre in ogano per la tastiera in palessandro per le meccaniche vintage mentre l'elettronica si compone oltre che dei quattro classici controlli volume tono volume tono e del selettore a tre posizioni dicevo si compone con due p90 alnico mentre il ponte è un classico wraparound quindi anche il ponte è una caratteristica vintage di questo strumento la chitarra arriva accompagnata con la sua custodia morbida in maniera tale da poter così proteggere ulteriormente il nostro strumento il modello che qui presentiamo è realizzato in un bel tv yellow ma è disponibile anche nella colorazione bianca